Non si placano le polemiche a seguito del caso di violenza sessuale e danni di una ragazza diciottenne di Torre del Greco. La giovane aveva denunciato e raccontato la sua vicenda negli scorsi giorni, di quell'incontro voluto che poi si è tramutato in un incubo vero e proprio. A quanto si apprende dal racconto contenuto nella denuncia presentata alle forze di polizia, i due si sarebbero conosciuti sui social per poi accordare un appuntamento. Inizialmente dovevano recarsi con la vettura del 24enne presso via Litorania, ma poi l'uomo avrebbe improvvisamente virato verso il parcheggio pubblico della Santissima Trinità in via circunvallazione. Una volta nell'area di sosta, la diciottenne è stata privata del cellulare e costretta a sobbire abusi dall'uomo. La ragazza avrebbe poi successivamente iniziato a piangere, convincendo il ragazzo a fermarsi e a riprendere il cammino in auto fino alla rotonda del casello autostradale di Torre del Greco, dove la diciottenne è stata fatta scendere dalla vettura. La vittima, nei giorni seguenti, aveva trovato il coraggio di parlarne con una cugina, che aveva notato i segni e le ferite sul suo corpo. Da lì, il coraggio di parlarne ai genitori, di denunciare. Grandissima vicinanza di tutto il popolo torrese alla giovane, non sono mancati i messaggi del primo cittadino, Giovanni Palomba. È inaccettabile un episodio della violenza inaudita, perpetrato ai danni di una giovanissima donna della nostra città, alla quale rivolgo la piena solidarietà, la mia personale vicinanza. Sono ancora più determinato e convinto, alla luce di quanto accaduto, che tali aree libero debbano essere monitorate, regolarmente e sorvegliate. Vicinanza alla vittima anche della consigliera comunale, con delega alle pari opportunità, Yolanda Mennella. Occorre reagire. Noi continueremo a lavorare sul piano culturale contro la violenza sulle donne, nelle scuole e con i ragazzi, così come abbiamo fatto finora. Perché ciò che è accaduto a questa ragazza conferma che bisogna smontare gli stereotipi, capovolgere le relazioni tra uomini e donne e scrivere una nuova grammatica dei sentimenti, in grado di comprendere cosa significa volersi bene, costruire relazioni nuove tra donne e uomini incentrate innanzitutto sul rispetto dell'altro.